Ciao, come stai? Ciao, Jack, bene! Ciao, come stai? Ciao, Jack. Che emozione. Allora, Giorgio, mi puoi aiutare? Mi servono frasi, mi servono idee, mi servono sentimenti. Siamo davanti a un tramonto, sentiremo più forte la magia di un momento, andrà tutto bene. Esatto, qualcosa del mondo di silenzio. Sentiremo più forte i profumi del mondo. Sta cambiando il mondo, ma a me non va di cambiarlo. Ok, parliamo delle magie e dei momenti in quell'istanza. Io intanto lo scrivo questa mai, se ti dimentichi. Non scrivo mai giù niente, o mi rimane qua o non va da pieno. Bello, questo mi piace. Grazie, Jack. Torneremo liberi. Tornare liberi. We got a song. Yes. We got a song. Grazie, grazie, grazie. Andrà tutto bene. Ciao, Italia.